Salve amici telespettatori, ben ritrovati a una nuova puntata di Pianeta Istruzione. Vado subito a presentarvi le nostre due ospiti di oggi, la dottoressa Marina De Blasio, referente dell'Osservatorio Permanente sul Bullismo della Regione Campania, e la dottoressa Deborah Sommella, docente di Psicologia Sociale all'Università della Calabria, psicologa. Benvenute ad ambe due. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Oggi ci concentreremo su questo fenomeno che potremmo definire, non so, mi correggeranno le nostre psicologhe se sbaglio, questo fenomeno che potremmo definire una piaga sociale, che è quello del bullismo. Volevo chiedere alla dottoressa Sommella, che cos'è in realtà il bullismo di cui tanto si parla, anche in maniera un po' generalista qualche volta? Dunque, il bullismo è in realtà un fenomeno che appunto, come anche lei ha detto, riguarda un po' la nostra realtà scolastica ed è in continua espansione. Il bullismo riguarda quel fenomeno per cui dei ragazzi vengono sottoposti a delle azioni aggressive, in qualche modo, delle prevaricazioni ripetute nel tempo. Però le azioni prepotenti in qualche modo sono di diversa natura, per cui essere vittima di un'azione di bullismo vuol dire sia subire degli attacchi dal punto di vista diretto, quindi dal punto di vista anche fisico, con percosse o anche con il danneggiamento dei propri oggetti. Ma vuol dire anche, e questo è il fenomeno che molto spesso non emerge, ma che non vuol dire che non sia altrettanto diffuso, vuol dire anche essere vittima di esclusioni, quindi una sorta di bullismo indiretto per il quale appunto i ragazzi si trovano ad essere estromessi dal gruppo o ancora si vengono a creare appunto delle maldicenze messe in giro da… Una sorta di mobbing in età scolastica. Tra pari, sì, in qualche modo appunto è un'azione intenzionale e ripetuta nel tempo e soprattutto volontaria da parte di un compagno di classe o anche di un gruppo, perché poi molto spesso il bullismo assume delle caratteristiche proprio di gruppo, è una dinamica di gruppo, nei confronti di una vittima appunto che è in una condizione di inferiorità dal punto di vista fisico o anche psicologico, spesso entrambe, ecco, quindi c'è una disparità di potere tra chi agisce le prepotenze e chi le subisce. Una volta chiarito che cos'è il bullismo, toccherà alla dottoressa De Blasio chiarire invece che cos'è l'osservatorio permanente sul bullismo. Sì, l'osservatorio permanente sul bullismo è nato nel 2007 e sulla base di una direttiva ministeriale dell'ex ministro dell'istruzione, Fioroni. Quindi questi osservatori sono stati istituiti in tutte le regioni dell'Italia e intendono correggere tutto quello che è successo negli anni passati rispetto a una percezione anche che c'era stato sul bullismo. Non so se lei si ricorda, nel 2007 ci sono stati episodi che sono venuti alla ribalta molto gravi di azioni perpetrate nei confronti di ragazzi anche con problemi nelle scuole. Ecco, la nascita di questi osservatori intendevano proprio promuovere tutta una serie di azioni, di ricerca, di attività presso le scuole attraverso dei fondi. Quindi noi come osservatorio regionale della direzione scolastica per la Campania istituimmo nel 2007 un comitato tecnico-scientifico dove sono raccolte tutti gli enti locali e le rappresentanze delle istituzioni. Quindi stiamo parlando di regione, comune, prefettura, ci sono tutti stati i commissariati e in più abbiamo due partners che sono l'Associazione Nazionale Magistrati e l'Aiga, l'Associazione Giovani Avvocati. Ecco, noi programmiamo regolarmente, chiaramente rappresentante dell'università anche, programmiamo regolarmente tutto ciò che avviene. Che cosa è successo all'inizio? Che su indicazione del Ministero abbiamo fatto un punto di ascolto. Questo punto di ascolto ovviamente non intendeva risolvere problemi operativi perché noi non siamo un ente operativo, noi siamo ricerca e studio. Quindi vi siete trovati magari nella condizione di avere utenti che richiedessero un aiuto concreto quando in realtà quello era uno strumento di ricerca. Era uno strumento di ricerca non solo, però guardi, questa indicazione, questa richiesta di aiuto ci ha fatto andare verso la direzione giusta perché ci ha fatto capire che cosa voleva l'utenzo, che cosa volevano i docenti, cosa cercavano le famiglie, qual era il tipo di problema. Quindi da qui è nata l'idea di fare un protocollo di intesa con l'ordine degli psicologi e promuovere una sperimentazione, una piccola sperimentazione sulla base dell'intervento di 30 psicologi in 30 scuole. Quindi noi abbiamo individuato 30 scuole sulla base delle richieste di aiuto e sulla base delle ricerche che loro ci avevano inviato, i lavori svolte sul bullismo, e nelle 5 province, proporzionale alla platea scolastica ovviamente, perché poi lei deve pensare che l'osservatorio non ha l'intento di finanziare singolarmente le scuole. Ma noi abbiamo quindi con i nostri fondi pagati gli esperti e attraverso il protocollo dell'ordine degli psicologi abbiamo attuato un monitoraggio che l'ordine ci ha fatto gratis su una serie di attività. Quindi questo gruppo che è nato, diciamo, di lavoro e di studi in queste 30 scuole, che è nato nel... perché il protocollo è stato fatto nel febbraio del 2008, è nato nel 2008, quest'anno sta concludendo il biennio, in pratica due anni e mezzo abbiamo fatto, e a novembre del 2009 abbiamo presentato in un convegno che si è intitolato la psicologia per la scuola, abbiamo presentato il lavoro svolto. E la psicologa insieme agli altri colleghi... Ha fatto parte di questo gruppo di lavoro. Infatti è proprio a lei che volevo chiedere quali interventi mirati si sono compiuti all'interno delle diverse scuole o più che interventi, come si è differenziato l'approccio a seconda delle diversità che immagino insite nella pluralità del mondo scolastico campano? Dunque, gli interventi che possono essere attuati per contrastare il fenomeno del bullismo e che in qualche modo poi sono stati anche quelli che abbiamo portato avanti noi, appunto, declinandoli in maniera differente a seconda dei differenti contesti all'interno dei quali ci siamo trovati a lavorare, sono degli interventi che in qualche modo possono essere o interventi curricolari, quindi in qualche modo il ruolo dello psicologo accanto al docente, perché l'obiettivo è proprio quello di attivare un po' tutte le componenti scolastiche, quindi attivare non soltanto appunto le competenze e le capacità dei docenti, ma coinvolgere anche magari il personale ATA e i dirigenti, quindi attraverso degli interventi curricolari in qualche modo il nostro ruolo è stato quello di affiancare i docenti e di aiutarli a selezionare dei contenuti culturali da portare nelle classi per sensibilizzare i ragazzi al tema delle prepotenze, cosa che tendenzialmente gli insegnanti già fanno, però in qualche modo ecco il nostro ruolo è stato quello magari di aiutarli anche nella scelta dei materiali e nelle modalità, anche attraverso per esempio lo strumento del film, quindi degli audiovisivi. Con quale riscontro è avvenuto tutto questo? La platea scolastica in che modo ha reagito? La platea scolastica ha reagito in maniera molto interessata e in effetti noi abbiamo avuto un buon esito dell'intervento anche rispetto a quella che è la variabile della partecipazione sia dei docenti che dei ragazzi. Questo è avvenuto anche per altri tipi di interventi come quelli per esempio che hanno avuto a che fare con un intervento più centrato sul laboratorio delle emozioni, quindi la possibilità di intervenire con il gruppo classe per sensibilizzare i ragazzi a prendere un po' coscienza delle emozioni, perché spesso uno dei problemi che è collegato al fenomeno del bullismo è proprio il mancato riconoscimento del fenomeno bullismo e anche di quelle che sono le conseguenze che poi prova la vittima stessa, da parte del bullo che quindi molto spesso non riconosce la sofferenza che provoca nella propria vittima, ma anche da parte del gruppo classe che tende generalmente a minimizzare quello che accade, quindi la possibilità di lavorare con i ragazzi per sensibilizzarli e quindi anche per far entrare più in contatto con la dimensione emotiva è stata utile nella misura in cui appunto si è provato a suscitare in questi ragazzi una maggior sensibilità e quindi anche una capacità di mettersi nei panni dell'altro. Un altro tipo di intervento che è anche stato realizzato probabilmente con i ragazzi di una fascia d'età un po' più grande quindi ecco i ragazzi della scuola superiore è stato quello del supporto tra pari, quindi c'è una possibilità di intervento che prevede la possibilità di attivare le risorse dei ragazzi stessi quindi non è nell'esperto, nel docente che prova ad intervenire affinché appunto si contrasti una dinamica di bullismo ma in qualche modo si formano dei ragazzi quelli che già hanno delle competenze pro-sociali in qualche modo, quindi quei ragazzi che hanno già una capacità empatica, un'attitudine all'ascolto, alla comunicazione affinché diventino degli operatori amici quindi in qualche modo delle figure di riferimento all'interno della classe è un modo di responsabilizzare e di evitare immagino quelle dinamiche di gruppo in cui poi il bullismo trova un terreno abbastanza fertile sì e soprattutto è anche un modo per aiutare le vittime a portare fuori appunto il loro vissuto perché spesso i ragazzi hanno difficoltà a confrontarsi con gli adulti mentre ci può essere più facilità a confidarsi ad aprirsi con dei pari quindi se questi pari vengono formati affinché abbiano una funzione di ascolto, di accoglimento e di supporto questo può essere un modo efficace per contrastare delle dinamiche che purtroppo spesso capitano all'interno della realtà scolastica Dottoressa De Blasio lei ha giustamente sottolineato come l'osservatorio permanente abbia rappresentato soprattutto un momento di ricerca sul fenomeno del bullismo tutto il materiale che è stato raccolto durante la sperimentazione che cosa ne accadrà? ne accadrà spero qualcosa di estremamente positivo nel senso che noi abbiamo raccolto tutti gli interventi fatti in questi anni anche perché nell'intervento e nel monitoraggio e nella supervisione che c'è stata ovviamente è cresciuto il modello si è modificato a seconda delle realtà territoriali perché sono state date delle linee generali il professor Dario Bacchini che ha curato il monitoraggio, la supervisione diciamo siamo cresciuti tutti insieme mi metto anche io dentro questa crescita che è stata molto interessante e raccoglieremo il tutto in una pubblicazione finale scientifica anche due pubblicazioni una piccola a cura dell'ufficio scolastico e un'altra un po' più tecnica quindi una sarà destinata un po' alla divulgazione con le scuole che hanno partecipato perché io approfitto anzi per ringraziare tutte le scuole che hanno partecipato e ci hanno dato fiducia mi faceva anche un piacere ringraziare l'ex direttore che ci ha aiutato noi siamo andati avanti e stiamo andando avanti con un grosso riconoscimento di tutto quello che abbiamo fatto e in particolar modo i dirigenti vorrei dire due parole sui dirigenti perché quando i dirigenti hanno abbiamo proposto diciamo abbiamo fatto questa offerta di questa possibilità hanno tentennato perché la parola psicologo ancora adesso porta a destra delle fantasie e dei fantasmi si porta dietro non è così abbiamo fatto una riunione l'anno scorso nel luglio del 2009 siamo stati fino alla tarda serata in cui i dirigenti ci hanno dato la restituzione come possiamo noi dire di quello che abbiamo fatto della felicità di essere cresciuti di aver capito che cos'era il bullismo capito da un punto di vista un po' diverso non soltanto amministrativo ecco di quello che è avvenuto e dandoci il conforto a continuare un altro anno sulla base di questa restituzione positiva noi abbiamo fatto un altro anno di sperimentazione facendo dei sacrifici economici per l'osservatorio perché ovviamente l'osservatorio ha fatto un grosso investimento però anche diciamo altre regioni poi ci hanno copiato il modello Dottoressa Sommella qual è il rapporto rispetto al lavoro che voi avete fatto con nuovi tipi di bullismo come ad esempio il bullismo cibernetico che ha delle implicazioni diverse rispetto a quello non so come definirlo tradizionale ahimè sì dunque in realtà il fenomeno del cyberbullying come viene definito è un fenomeno estremamente preoccupante perché in qualche misura è anche come dire meno facilmente individuabile che cos'è il cyberbullismo e quindi questa forma di bullismo è estremamente legata alle tecnologie attuali in qualche modo i ragazzi rubano anche le identità dei propri compagni utilizzandole per compiere appunto delle in qualche modo anche delle mettere in giro delle dicerie nell'ambito non reale ma appunto quello virtuale e questo come dire diventa tanto più preoccupante proprio perché va ad aprire una dimensione verso la quale gli adulti in realtà forse hanno anche meno di mistichezza mi riferisco sia magari alle famiglie ma anche agli insegnanti quindi è estremamente importante appunto lavorare in quella direzione di sensibilizzare maggiormente i ragazzi proprio perché in questo modo si può evitare che appunto poi si vadano a individuare anche nuove forme di bullismo come quella del cyberbullying ma una forma di bullismo differente che anche è abbastanza in crescita è quella proprio del bullismo indiretto di cui parlavamo prima che tra l'altro ha una caratteristica prettamente di genere per cui sono molto più spesso le ragazze che adottano strategie di bullismo indiretto quindi in qualche modo appunto l'esclusione dal gruppo il mettere in giro i pettegolezzi anche questa come il cyberbullying in realtà è una forma di bullismo meno evidente anche perché se noi riflettiamo anche a come in realtà si parla di bullismo anche attraverso i mass media in realtà viene sempre data molta importanza e molto rilievo alla dinamica aggressiva quindi dell'aggressione diretta spesso si usa il termine bullismo anche in maniera impropria perché spesso quello che la cronaca ci riporta sono episodi francamente criminali e quindi il bullismo in quel caso non ha molto a che fare è probabilmente un altro fenomeno altrettanto sconcertante ma non lo stesso e quindi immagino che la cultura identitaria di un gruppo che è così fondamentale durante l'età scolare finisca poi per far designare una sorta di capro espiatorio intorno al quale si cimenta questa sorta di identità se ho ben capito sì in realtà la letteratura riporta una serie di studi proprio sulle caratteristiche che in qualche modo appartengono tanto alla figura del bullo quanto a quello della vittima anche se bisognerebbe sempre adottare un'ottica un po' più ampia perché se è vero che esistono delle caratteristiche in qualche modo individuali tipiche tanto della vittima quanto del bullo per cui per entrambi in realtà c'è almeno la ricerca evidenzia questo c'è una difficoltà per quanto riguarda il campo proprio del riconoscimento delle emozioni proprie altrui come anche nel bullo per esempio c'è una difficoltà proprio a riconoscere la sofferenza che magari può generare con i suoi comportamenti quindi agisce lui un principio morale di de-responsabilizzazione e potremmo anche definirlo quasi de-umanizzazione della vittima e quindi diciamo che però anche se esistono delle caratteristiche che designano tanto il bullo quanto la vittima in realtà il bullismo è sempre un fenomeno di gruppo perché l'85% per esempio dei casi vuole che le azioni di bullismo vengano effettuate in presenza del gruppo e questo proprio perché il bullo probabilmente attraverso queste sue prevaricazioni ambisce ad ottenere uno status elevato all'interno del gruppo questo immagino faccia anche da collante tra la scuola terreno fertile del bullismo e i social network faccio per dire che è anche una visione virtuale di gruppo all'interno della quale questi esempi trovano un terreno particolarmente fecondo volevo chiedere invece alla dottoressa De Blasio cosa pensa di questo rapporto così produttivo che si è sperimentato tra l'ufficio scolastico regionale e l'ordine degli psicologi è stata un'esperienza assolutamente positiva e nasce comunque da una richiesta della platea perché comunque i docenti che hanno telefonato al punto di ascolto hanno richiesto qualcosa di ben preciso non un aiuto generico ma un intervento tecnico quando intendo tecnico intendo una definizione diversa una lettura un aiuto a leggere quello che è il buddismo perché lei deve pure immaginare la difficoltà che può avere un docente di fronte a delle lezioni così violente e anche la difficoltà dei genitori punterei un po' l'attenzione sui genitori che hanno fatto delle telefonate molto preoccupate perché la loro difficoltà è anche di leggere quello che stava succedendo nel figlio sia bullo sia vittima perché ovviamente la preoccupazione c'è da tutte e due le parti e non a caso una grossa rispetto al cyberbullismo c'è una grossa ignoranza tra virgolette nel senso ignoranza intensa come non conoscere quello che avviene nei vari messenger nei vari siti in cui purtroppo una sola diffamazione chiamiamola così o qualcosa che si dice su un ragazzo si allarga d'onda pericolosamente e quindi diventa qualcosa di pesante che il ragazzo deve portare e nel momento in cui riesce a parlarne è già un momento in cui abbiamo fatto un passo avanti però l'attenzione dei genitori devo dire che è forte rispetto a questa cosa a questo nuovo fenomeno lei crede che sia una sensibilizzazione dovuta anche al molto parlare che ne fanno i mass media del fenomeno intendo oppure a un'espansione del fenomeno che costringe i genitori a riguardare la prospettiva diciamo che ci sono tutti e due gli aspetti ecco nel senso che sicuramente il network da un certo punto di vista diciamo le tv in genere se vogliamo parlare dei media in genere allertano ecco allertano su quello che sta avvenendo a volte ingigantiscono il problema e come prima accennava la dottoressa andiamo a finire in quelle che sono azioni di criminalità ma non sono vero quindi a volte lo banalizzano anche no banalizzano non direi semplificano un po' varie tipologie facciano quello che è un'azione di bullismo in una dinamica di gruppo quello che invece è un atto criminale vero e proprio di piccola criminalità che definisce comunque il contesto definisce il bullismo il bullo e definisce il potere che serve al bullo in quel momento però dall'altra parte poi allertano i genitori e l'opinione pubblica a fare maggiore attenzione ai ragazzi perché l'adolescenza sicuramente parlo di adolescenti perché più o meno quella è l'età che interessa l'adolescenza è sicuramente un momento difficile tra virgolette delicato attenzione però tutto ciò che avviene nell'adolescenza è fisiologico quindi non bisogna poi gettare un allarme generale ma fare attenzione perché per esempio dalle telefonate che ho avuto di alcuni genitori si erano accorti che qualcosa non andava da un malessere del ragazzo e poi hanno scoperto che stava avvenendo qualcosa su messenger che erano stati puntati io direi che sono cambiati i modelli rispetto a questo la tecnologia aiuta a una diffusione maggiore purtroppo su certi elementi la ringrazio amici telespettatori purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato io vi lascio vi ricordo che potete riguardare questa puntata come le altre di Pianeta Istruzione sul nostro sito www.julienews.it ringrazio la dottoressa Marina Di Blasio e la dottoressa Deborah Sommella per essere state miei ospiti ringrazio voi per averci seguito con l'attenzione di sempre e vi do appuntamento alla prossima puntata e vi do appuntamento alla prossima puntata Grazie a tutti.